Io come altri ragazzi abbiamo deciso di organizzare questo piccolo evento, questa piccola iniziativa che si chiama Sgrasciare Palermo. Il tutto è nato prendendo spunto dall'iniziativa di un altro ragazzo che si chiama Gabriele Amore, il quale si è ritrovato nelle nostre stesse condizioni, ovvero quello di essere indignato dalle condizioni di sporcizia della nostra spiaggia e quindi ha deciso di armarsi di guanti di lattice e sacco nero dell'immondizia per ripulire il più possibile. Da lì ci siamo detti che questa volta invece di lamentarci e di commentare di quanto Palermo possa essere i nostri occhi brutta, abbiamo deciso di creare qualcosa. Da lì abbiamo pubblicato l'evento su Facebook e abbiamo subito avuto un feedback talmente tanto numeroso da spingerci a provarci veramente e a coinvolgere più persone possibili. L'intento non è quello di fare solo questa giornata e basta, ma di iniziare da oggi per cercare il più possibile di coinvolgere un po' a macchia d'olio tutti i cittadini di Palermo e non solo in realtà.